Sì, vedevo che... Eh, sono laureata anche io e non è che vado in giro con la maglietta, sono laureata. Ma io neanche. Una, due, non è che mi serve il tacco per far vedere che sono una donna e che sono femminile. A me sì invece, mi serve il tacco per far vedere che sono una donna che c'entra. Ok, mi fa piacere per te. No, allora Maria, io tengo a precisare questa cosa. Innanzitutto nell'intervista io ho un po' accentuato e ho anche detto prendi quelle pinze, quello che ti dico, perché volevo vedere la sua reazione. Quindi ho rimarcato delle differenze tra me e lei, ma che sono da contestualizzare. Siamo uomini e donne, non è che siamo in un tribunale, quindi nessuno sta accusando nessuna. Però ho detto ad esempio... Non serve che ti giustifichi, guarda, non serve. Stiamo così lontane che non serve. Sto spiegando cose di me, non mi sto giustificando con te. Sto dicendo, quando io sono scesa lei ha rimarcato questo fatto, ah, me ne vado, per simpatia. Poi dopo c'era stata questa cosa, no, io sono una... Lei è laureata. Cioè, sono leggerezze, sono sfumature che io ho messo. Non ho mai detto che sono una... Ho detto che sei laureata a 110 lode, che è un'altra cosa. No, no, ascolta. Non te la prendere sul personale. Non me la sto prendendo sul personale. Non è una cosa... Non è una cosa personale ai tuoi confronti.